Musica Bentornati nella mia cucina Oggi vi presento un altro dolce buonissimo Che è la panna cotta con salsa di cioccolato Vediamo gli ingredienti Che sono Mezzo litro di panna 130 grammi di zucchero 4 fogli o alla di pesce E del cioccolato extra fondente per fare la salsa Iniziamo a preparare Io ho già messo a scaldare la panna in un pentolino Insieme allo zucchero E bisogna portarlo fino a sfiorare il bollore Nel frattempo ho anche messo La colla di pesce Nell'acqua fredda per sciogliersi Appena la panna raggiunge il bollore Si spenge il gas Si prende la nostra colla di pesce Ben strizzata La pensiamo nella panna E bisogna scioglierla In maniera omogenea Quando la colla di pesce è ben sciolta Potremmo prendere la nostra panna E la versiamo I stampini In unica forma Insomma Dove vi farlo il comodo Adesso prendiamo i nostri stampini E mi hanno messi in frigo Per almeno un po' di pesce E' un po' di pesce Bene, vedi Grazie per avermi aspettato E' un po' di pesce E' un po' di pesce E' un po' di pesce Grazie bravo Ma non mette par da fanno Fanno la mangiare io E ti volete su Youtube E' un po' di pesce 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 Bapè Bapè E' un po' di pesce E' un po' di pesce Grazie